Pironeri, Alternativa Progressista presenta la sua lista, lei insieme ad altre persone pronte a dare il sostegno a Maria Luisa Forte? Sicuramente sì, siamo gli artefici insieme al PD 5 Stelle di questo campo progressista che a Campobasso ha trovato una conferma importante dopo anche le elezioni regionali. Abbiamo messo su una lista bella, varia, soprattutto tenendo conto delle persone vicine ai partiti che rappresentano Alternativa Progressista, quindi Allianza Verdi Sinistra e c'è una novità rispetto alle regionali, l'arrivo anche in Alternativa Progressista del Partito Socialista per cui si completa il quadro delle anime progressiste all'interno di Alternativa. Quali sono i cavalli di battaglia dell'Alternativa Progressista? Abbiamo partecipato con molta forza e anche con molta determinazione a scrittura il programma del Centro Sinistra un programma molto fitto nel segno della continuità per i tanti progetti e per le tante iniziative che sono già state messe in campo, quindi alcune canterabili e altre da canterare. Abbiamo portato avanti il tema di Campobasso città sostenibile, Campobasso città smart e con un occhio di riguardo al turismo e alla cultura perché il Campobasso possa diventare un centro molto importante.